L'anno scorso ho fatto fatica perché sono arrivato con un infortunio e purtroppo sono partito in ritardo però quest'anno conto di partire insieme ai miei compagni, di fare tutto il ritiro per bene e di ritagliarmi il mio spazio come ho fatto l'anno scorso, sperando di fare ancora meglio l'anno scorso. Io penso giorno per giorno di potermi migliorare sempre di più perché penso di avere dei margini di miglioramento ancora ampi e quindi c'è ancora molto da imparare. Abbiamo visto l'anno scorso che all'inizio siamo partiti un pochettino contratti perché avevamo un gruppo nuovo, un mister nuovo, però poi alla lunga siamo cresciuti, siamo venuti fuori e penso che quest'anno ci conosciamo già abbastanza tutti quanti e questo è già un vantaggio e quindi possiamo partire rispetto all'anno scorso con una marcia in più e partire già da subito facendo ottimi risultati. Dobbiamo essere consapevoli che siamo una grande squadra che dobbiamo riconfermarci dopo tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso per cui noi dobbiamo andare a giocare contro qualsiasi squadra come abbiamo fatto l'anno scorso, giocandoci le nostre carte e non avendo paura di nessuno. L'anno scorso è stata la miglior stagione sia dal punto di vista del gioco ma soprattutto anche dal punto di vista dei gol perché ne avevo fatti due nella mia carriera in Serie A e l'anno scorso è andata molto meglio. Niente, sono contento che la Sampa ha creduto in me, è riuscito a riscattarmi e adesso vediamo di fare, se non di ripetere, di avvicinarci a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Nei primi anni a Chievo ho sempre giocato dei due centrali forse ero quello che, come hai detto, chiudevo di più e mi davo più da fare però mi è sempre piaciuto attaccare, giocare col pallone e quest'anno, l'anno passato, con il nuovo modulo sicuramente mi sono trovato meglio perché ero più libero anche di attaccare e di crearmi degli spazi. Ripetere le annate come quelle dell'anno scorso non è mai semplice però diciamo che il grosso del gruppo è rimasto e credo che la società stia lavorando anche bene perciò noi abbiamo tutte le intenzioni di fare altrettanto bene come l'anno scorso. Sicuramente un vantaggio già conoscere gli schemi del mister è quello sicuramente perché l'anno scorso, come hai detto, abbiamo lavorato molto sul campo, sulla tattica faremo anche quest'anno perché conoscendo il mister non lascerà niente al caso però magari non lasceremo per strada tanti punti come abbiamo fatto l'anno scorso soprattutto il giro dell'andata in trasferta, spero perlomeno. E poi è un vantaggio anche non dover subito giocare delle partite importanti come l'anno scorso perché ci permette di lavorare meglio fisicamente e magari arrivare all'inizio campionato ben rodati. Credo che il sostegno della Sud sia fondamentale, si è visto l'anno scorso e spero che quest'anno sia altrettanto e faremo vedere anche le nostre cose. È quello che mi manca che l'anno scorso su due derby non ne ho giocato neanche uno quindi spero di essere quest'anno protagonista anche nel derby e di portare a casa la vittoria.